Il momento poco non mi avrebbe mai parlato Porco Dio porco Busto cesso hai fatto vittoria prima di me E niente Luca non preme LUCA addirittura ci ciò oh no il livello dei limoni oh no tutti i livelli mi hanno rotto di coglioni a me eh dottor io chi ci sta vicino a me perché parto sempre l'ultimo mannaggia la madonna che so quelle palle che arrivano aia 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 e levate al cazzo oh pago il cascato ma ciò 90.000 cristiani davanti sono primo di nuovo ma che sei primo ma prima di te coglione nooo sono davvero sotto uh uh mannaggia la madonna guarda la stiliponi del cazzo che ci è qualificato ancora nessuno ancora nessuno però io si mi sono qualificato no 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 facciamo sesso al ristorante si mi sono qualificato si è qualificato no non ci credo dov'è 43 uh 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 si è cagato si è cagato si è cagato si è cagato ciccio si è cagato ciccio si è cagato mamma mia che sofferenza sto gioco ma esce quello la dell'ebola sicuro no no non lo faccio facciamo fado sei pronto per lo slime? e niente di nuovo questo nooo mannaggia la madonna ma già è difficile farlo in 30 figurati in 45 eliminati 0-1 ah grazie cazzo che vado da pagina ma levatevi dai coglioni mannaggia la madonna dico io mi sono cascato uuuuuh uuuuuh uuuuh mannaggia la madonna mannaggia la madonna ma come cazzo uuuuuh no ma levatevi dal cazzo ma che cazzo vi manderei testi figli di tutta come se mantiene agente che mi sono r2 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 no niente niente dai su fate cadere 5 cristiani da quello come si è salvato da quello come si è salvato perché ho la vaga idea che uno degli ultimi tre sarà pago sicuro sono io cascato ah 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 godo se non è che pagino siamo arrivati codura seria fa come esce lo slime sicuro come 4 miliardi no no è uovo mannaggia la madonna cazzo è lo scramble max e niente chi siamo noi i rossi no i gialli c'è sì siamo i cicci noi ma niente niente pago è andato a finire dentro la cosa dammi il culo e niente ma che vuoi ma con tante uomo deve prendere a me questo e niente pago non prende più un uomo dai un buon cazzotto a quello vabbè rossi legna cazzo figlio di troia ti levi dal cazzo e niente guarda la maglia la maglia l'uovo d'oro l'uovo d'oro ciccio di adoro ma leva di dal cazzo e niente o una difesa la difesa 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 ma vi levate dal cazzo e niente smetteteva sesso quello la pago è così si gioca questa maniera dice di metterti in difesa che vengono a rubare le uova che le rubano a fa c'è tanto ci stanno i rossi che non viene un nuovo mancappagamento fermate per partirebbero andare a rubare a lei rossi di rossi e non meno proprio di essere eliminati proprio di essere eliminati in che senso meno probabilità di essere eliminati un luogo d'oro il fiorino venga qui dove corre lei mi dia l'uovo d'oro vai via che orgia che orgia per un uovo d'oro madonna torna indietro e niente oh no ma muoviti questo coso e niente un attimo io appunto vedi c'è un recuperato infatti mi sono cagato come che siamo pari la inora metta inora mettono al line così poco best in the line 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 non c'è un altro gioco a squadra ora dell'ebola che debili con il corone no l'ebola secondo me esce quello là è niente io non ci credo ieri dopo manco 10 secondi stavamo vincendo 20 a 0 ci siamo fatti recuperare 50 a 30 insomma e niente già non ha preparato un cerchio no tuo padre nudo tuo padre nudo c'è qua che non sta a fare un disastro mai visto mannaggia quello non c'entra un buco neanche se glielo chiedi ma sta zitto guarda pochino che sta guarda pochino che sta fa sta scendendo niente dall'altro lato paco pose due sono io quello che non c'entra il buco ma va a cagare va se non c'è della squadra forte la squadra forte 0 25 guarda che buco che ti ho preso paco scuola e dopo scuola a Merocco ti chiamano che cazzo fa quello ma che fa ai palo paolo paolo ancora sta piangendo per l'eliminazione del posto di riservato dietro e niente dai 40 secondi facciamoci recuperare mi raccomando vai paco ai su ormai si è passati bravi sesso nudo sesso nudo dove cazzo spawnano altri ma fallo spavare qua uno questa è la partita di paco non potrà mai perde 0,38 l'ho fatto il tuo pallo all'ebola e l'ho disparato vabbè che cosa ti ho preso di eh vabbè che casa ti ho preso paco ma che hai fatto ma 7 6 5 4 3 2 1 ma 60 a 50 siamo eliminati non ha diritto ladri 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 nei rossi comunque vanno forte in tutti i giochi bufone alle 12 o 12 non è più a fare con la corona oppure fanno quello della valla fanno quello della palla qual è quello della valla quello che ho fatto prima io pago fammi vincere pago ma se non ci arrivo io la sola mi spiego e ti faccio vinta dovessi capire a minare dovessi mai arrivare mi dice ragazzo sono pure ultimo spazio no io niente che lamento fu ultimo ultimo ma questo no io ultimo io mi guardo vado a farmi non è troppo tra gli arder paga primo attenzione è comunque viene attenzione eccolo fai pago aia ma come cazzo ma colpito quel cazzo di limone no ma fa con lo gambetto aia aia no aia l'arriva sarà acqua quarto pago ma vinto ruben pa ti tanti ma chi è cesso sotto gli scrivi get corona ruba 95 sì allora c'è un cesso che ha 18 non è manco italiano dai forza faccio il team ma devo andare io portavo giù più tardi